L'assessore regionale dell'ambiente Totò Cordaro nella qualità di autorità ambientale nell'isola ha firmato stamane il decreto con il quale viene dato il via libera al piano regionale per l'amianto. Un ulteriore passo in avanti per rendere operativo uno strumento atteso da 28 anni. Nelle scorse settimane il documento aveva ricevuto il parere favorevole della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali dell'assessorato, presieduta da Aurelio Angelini. Ultimo passaggio adesso sarà la trasmissione della protezione civile regionale che potrà così procedere con le previsioni che ha fatto per quanto riguarda soccaggio, smaltimento e trattamento dei rifiuti speciali. Il piano, fortemente voluto dal governo musumeci, consentirà di intensificare la lotta contro lo smaltimento irregolare e bonificare moltissime aree della Sicilia. Ogni ente locale dovrà varare a sua volta un piano e potrà avvalersi del lavoro svolto dalla regione che mapperà anche tramite foto satellitari la presenza di potenziali manufatti in amianto, anche per evitarne la rimozione in maniera arbitraria. Un rischio per la salute e per le salatissime multe. Tra gli aspetti principali del documento anche le informazioni epidemiologiche aggiornate, le ipotesi sul fabbisogno, le tipologie tecnologiche degli impianti, i criteri di localizzazione, la definizione degli scenari nel breve, medio e lungo periodo.